... Sono passati poco meno di due giorni da quel momento, catturato dal telefonino di un imprenditore bresciano che lo ha pubblicato su Facebook. Mente fredda avrei potuto dire qualche parolaccia in meno, è vero, ma questo attiene alla forma. Per la sostanza è tutto confermato, anzi di più. L'Alitalia non ha garantito un contratto che aveva sottoscritto con me e con altri tre passeggeri. Ho agito da maschio, ha anche detto Roberto Formigoni, senatore di NCD, giustificandosi con il Corriere della Sera. Il fatto risale a martedì sera, quando l'ex presidente di Regione Lombardia perde le staffe a Fiumicino, dopo aver perso l'ultimo volo per Milano, a causa di inefficienze di Alitalia, secondo lui, perché non si è presentato in tempo, secondo l'azienda. Il video della telefonata in cui Formigoni insulta il responsabile, che è riuscito a raggiungere telefonicamente, diventa pubblico sulla rete e scatena polemiche contro l'uomo pubblico, senatore e cattolico. Per favore, ma per favore, i social network sono pieni di tutto e qui ci si meraviglia perché qualcuno dice una parolaccia? Cioè ci sono bestemmie che girano per la rete e non vanno bene le parolacce? No, queste critiche non toccano nessuno, sono un moralismo inaccettabile. Come senatore però, diciamocelo, forse bisogna stare anche attenti alla forma? Non credo, i cittadini hanno capito benissimo, quando uno viene tirato per i capelli, se anche dice Alitalia così non funziona, cambiate, questa è la giusta protesta del cittadino utente. Ma lei non ha detto così e quindi Crozza andrà avanti? Crozza è un amico, lo approfitto per salutarlo, tra di lui la collaborazione è annosa. Crozza, ti aspetto venerdì. Crozza, ti aspetto venerdì.